Estate, sole, caldo e allora cosa c'è di meglio che farsi avvolgere dal fresco della montagna? Ma cosa sarebbe la montagna se non ci fosse la possibilità di stare insieme, di ritrovarsi per assaporare qualcosa di fresco, di scambiare quattro chiacchiere in compagnia e, perché no, anche mangiare qualcosa di prelivato? Insomma, un po' come una piccola cortina, ma col paesaggio, la tranquillità e la pace che solo le prealpi trevigiane sanno offrire, in un ambiente a due passi della pianura, quasi vista a mare, ma a due passi dalle Dolomiti. Stiamo parlando di Miliès di Segusino, la borgata montana del paese, adagiata sul piccolo altopiano che si affaccia sull'anfiteatro naturale della conca del Basso Feltrino. Ed è proprio qui che alcuni segusinesi hanno deciso di intraprendere la loro sfida turistica, aprendo dei locali davvero unici. Oggi vi parliamo dell'Osteria da Romolet, dove due giovani ragazzi, Anita e Stefano, hanno preso in mano le redini dello storico locale per anni gestito dal nonno di Stefano, Romolo Bortolin, rinnovandolo, ma soprattutto proponendo ai turisti anche delle interessanti novità. Venerdì 23 giugno, Anita e Stefano e tutto lo staff dell'Osteria da Romolet hanno ufficialmente inaugurato il giardino estivo con chiosco all'aperto e il parco giochi per bambini. Ma il grande debutto è stato domenica 25 giugno con la musica live degli Anki Penki, dove per l'occasione tanti giovani si sono ritrovati tra le panche all'aperto, all'ombra degli alberi, a festeggiare tutti assieme la nuova stagione estiva 2017, che proseguirà con l'evento aperitivo e fresco per tutti i venerdì di luglio e agosto. Qui a Miglies ci serviva proprio un locale giovane per i ragazzi, un chiosco per l'alternativo, un po' giovanile con le giostre per i bambini. Sei mesi fa abbiamo inaugurato la nuova attività, questa nuova gestione qui a Miglies e adesso con l'estate, con l'arrivo dei turisti, abbiamo voluto dare un luogo dove potersi rilassare, stare all'aria aperta, quindi offrendo anche un parco giochi per i bambini, un chiosco dove poter mangiare panini e patatine in tranquillità, in serenità, dopo una camminata o semplicemente per prendere un po' di fresco durante la sera. Noi siamo felicissimi di essere qui a Miglies per inaugurare questa nuova area dedicata ai turisti e in particolar modo anche ai bambini. È una bellissima cosa che la nostra frazione di Miglies stia riacquistando vita e soprattutto tante visite, tanti turisti durante il weekend, adesso comincia la stagione calda, quindi non può che andare ad aumentare questa tendenza. Noi come amministrazione abbiamo sempre detto che avremmo puntato molto sul rilancio delle località turistiche, delle frazioni turistiche ad attrattività e abbiamo anche un assessore dedicato che si occuperà da vicino al turismo, tra le altre cose, e che seguirà molto da vicino queste iniziative. Un ringraziamento anche e soprattutto perché abbiamo sempre ringraziato in queste settimane le varie associazioni che si dedicano a promuovere queste località, ma in verità non bisogna dimenticare chi anche lo fa da privato, chi gestisce un ambiente perché soprattutto magari quassù che è un po' più scomodo, un po' più logisticamente, magari anche con la famiglia e con tutto, l'impegno sicuramente è doppio, quindi un applauso, un ringraziamento anche a chi gestisce questi locali in prima persona che poi sono di fatto quelli che attirano la maggior parte della gente perché è vero, si viene per camminare, si viene per stare nella natura, si viene per ammirare le bellezze del paesaggio, però poi l'obiettivo è sempre quello, lo stare assieme, mangiare e condividere questi momenti. Un bravi ed un in bocca al lupo a questi due giovani imprenditori, ma anche un grazie per l'ammirevole sforzo e l'impegno a favore della promozione turistica di Migliès, uno dei luoghi sicuramente fiori all'occhiello delle prealpi trevigiane. Vi aspettiamo tutti i weekend e anche durante la settimana qui alla trattoria da Romoletta e anche nel nostro parco. Grazie a tutti!